Sulla riforma della legge elettorale resta alta la polemica dopo l'intesa tra Renzi e Berlusconi. Voi vi siete detti contrari, perché? Semplicemente noi riteniamo che la riforma elettorale vada discussa nelle sedi opportune, ovvero in Parlamento. Noi siamo fino ad ora gli unici che hanno presentato una proposta di legge elettorale seria. Possiamo iniziare a discutere da quella. Già a giugno abbiamo detto di discutere, di abrogare il porcello un po' abrogato parzialmente dalla Corte Costituzionale. Ci chiediamo perché Forza Italia e PD si sono rifiutati sin da allora e sono arrivati sempre troppo tardi. Noi siamo sempre a disposizione, però fino ad ora non c'è nessuna proposta di legge elettorale presentata da Renzi in Parlamento. Aspettiamo quella per vedere. Ecco, ma intanto questa proposta arriverà a giorni. Si parla appunto di premio di maggioranza, soglia di sbarramento e liste bloccate, ma corte con pochi candidati. Vi convince questa ipotesi? Ma alcune proposte di questi di Renzi sembrano molto simili a quelle del porcellum di Calderoli. Quindi scontano lo stesso problema che ha imposto la Corte Costituzionale alla sua abrogazione parziale. ovvero non ci sarà possibilità di avere una preferenza da parte del cittadino e questo ci sembra davvero scandaloso dopo tutto quello che ci siamo detti in queste settimane, in questi mesi, in questi anni. Vuol dire che Renzi vuole ritornare ancora una volta indietro, vuole scegliere lui i suoi deputati perché vuole avere il controllo totale del partito. Questo ci sembra scandaloso. Per noi i cittadini devono controllare il partito e le istituzioni, non Renzi o i capi di partito. Quindi voi sareste per un ritorno alle preferenze. Ma intanto si parla anche di riforma costituzionale, la riforma dell'articolo quinto della Costituzione e il superamento del bicameralismo perfetto. Queste due cose vi convincono? Personalmente ci siamo tante parole che vengono fatte quotidianamente dai soliti politicanti. Fino ad ora non c'è stata neanche una proposta da parte del PD sulla riforma del titolo quinto e neanche sul superamento del bicameralismo. In realtà la proposta di Renzi, che ha detto in tv, che però poi non ha ancora scritto a quanto pare, è quella di non eleggere più i senatori, bensì di farli eleggere dai consigli regionali, alla faccia della democrazia parlamentare. Io personalmente ho una mia posizione. Abbolliamo del tutto il Senato e vediamo quanto risparmiamo. In realtà Renzi non vuole risparmiare nulla, vuole solo fare eleggere dai consigli regionali altre persone che non sono elette dal popolo. Intanto nel governo si parla di rimpasso, ma qualcuno addirittura chiede un letta bis. Un letta bis riuscirebbe in qualche modo a sollevare problemi del paese? Letta ha dimostrato, ma non solo letta, anche il PD, il PD e le forze hanno dimostrato di non riuscire a fare niente dal punto di vista dell'economia di questo paese. Sono stati solo interessati alle poltrone a dare credito a determinate lobby, tipo le assicurazioni, tipo i concessionari slot machine. Però vediamo che le tasse stanno aumentando. C'è fiscalmente un casino incredibile per quanto riguarda la tassazione sull'Imu, sulla Minimu, sulla Tares. Nessuno sa cosa accadrà e cosa accadrà nei prossimi giorni. Nessuno sa dove finiremo, dove finirà questa legislatura, dove finirà l'Italia nei prossimi mesi, dove abbiamo anche una scadenza elettorale europea. Finora il governo Letta è stato in acquiescenza a navigare nelle acque basse senza fare nulla, senza muoversi né a destra né a sinistra, solo per sopravvivere. Secondo noi l'Italia non può sopravvivere in questo modo, ma deve avere una visione del paese da qui a 5-10 anni, cosa che il governo Letta ovviamente non ha. Ovviamente un suo rimpasto è solo un accapparramento di poltrone da parte della corrente di Renzi. Intanto l'intesa tra Renzi e Berlusconi ha sollevato anche un'altra polemica. Renzi avrebbe rilegittimato Berlusconi. Ma voi che ne pensate? Ci sembra incredibile che noi finalmente siamo riusciti a cacciare via Berlusconi nel Senato e Renzi l'abbia fatto rientrare dalla porta principale della sede nazionale del PD. Cioè a questo punto quando noi parliamo di partito unico, parliamo di una cosa vera. Forse Italia e il PD di Renzi sono la stessa cosa. L'unica opposizione a questa deriva è il Movimento 5 Stelle. Ma in Italia si può ancora vivere di anti-berlusconismo in termini politici? Non ci interessa l'anti-berlusconismo, semplicemente è un delinquente che è stato condannato, che è stato cacciato dal Senato, noi vogliamo parlare di cose concrete. Sinceramente aspettiamo Renzi e il PD al barco, quando finalmente presenteranno delle proposte come abbiamo fatto noi, ne potremmo discutere tranquillamente. Purtroppo Renzi vuole discutere le proposte sui giornali e sulle tv che indirettamente controlla. A noi ci interessa fare davvero qualcosa, quindi conta qui in Parlamento fare le proposte. Intanto le polemiche sulla legge elettorale hanno fatto passare un po' in secondo piano i problemi del Paese, specie quelli economici. Sembra che il 12% degli italiani, di quelli occupati con un lavoro, non arrivi a fine mese. Come commenta? Il problema vero è l'occupazione e soprattutto la sottooccupazione del Paese. Ovvero ci sono persone che guadagnano pur lavorando pochissimo a causa della precarizzazione del lavoro. Ora, il problema principale è che, ad esempio, c'è il fortissimo rischio che i cittadini andranno a pagare l'IMU del 2013. Questo perché il governo rischia di far decadere il decreto IMU-Banca Italia. Da una parte il decreto diceva di togliere l'IMU del 2013, dall'altra svendeva la Banca d'Italia, ovvero un bene pubblico, alle banche, alle assicurazioni ma soprattutto alle banche straniere. Però il governo fino ad ora non ha fatto niente, non stiamo neanche discutendo questo decreto che scadrà martedì sera. Cosa aspettiamo? Questo governo, siamo sicuri, farà pagare l'IMU gli italiani. Ma un'Italia sempre più povera non rischia di diventare un incubo peggiore del debito pubblico? Il rischio vero è che noi stiamo finendo, fra qualche mese, anzi finiremo, come l'Italia di Grecia. Questo perché stiamo diradando nella maniera più assoluta il tessuto imprenditoriale italiano. Gli artigiani, le piccole imprese, ma anche le grandi imprese, non ce la fanno più per mancanza di liquidità. E questa è colpa di chi? Ovviamente della BCE, ma dell'Europa, in primo piano soprattutto della Merkel, ma anche delle politiche che l'Italia, e quindi Letta, sta facendo a causa del ricatto della Merkel. Allora noi siamo per fare delle politiche diverse, delle politiche che finalmente diano respiro all'economia italiana, perché non possiamo ridurci così. È da vent'anni che l'Italia cresce molto meno rispetto agli altri. Dobbiamo capire il perché, le cause, ma in realtà gli effetti sono sempre...